scuole svuotate dalle quarantene a casa a uno studente su tre la lotta dei balneari supportata dal presidente nazionale cna contro la violenza di genere parte il progetto sicurezza vera nasce a pesaro una piattaforma digitale per il business estero delle imprese buona serata benvenuti al nostro telegiornale telegiornale di oggi 26 gennaio che apriamo occupandoci di scuole che in queste settimane si stanno davvero svuotando per l'alto numero di contagi tra i giovani e l'ancor più alto numero di quarantene che di fatto sta lasciando a casa un minore su tre vediamo il servizio nelle marche sono più di 9.000 gli studenti fra i 6 e 18 anni positivi al covid-19 ovvero 3.000 in più rispetto alla settimana precedente sintomi per lo più lievi ma segnale di un virus che si sta accanendo nelle fasce più giovani e i numeri si triplicano nel gonfiare l'esercito di studenti che sono in quarantena per contatti compositivi e che stanno creando una massa di didattica a distanza molto complessa da gestire per le famiglie idem per nidie materne dove basta un solo caso positivo a mandare la classe in quarantena scuole comunali di fatto svuotate del 30 per cento a livello nazionale e pesero non si astiene dalla statistica le scuole di pesero seguono quelle che sono le percentuali di frequenza di tutte le scuole nazionali quindi abbiamo rotazione delle sezioni della scuola materna che vanno in quarantena altre che rientrano perché sono passati giorni di osservazione di salvaguardia diciamo che un terzo delle scuole in generale e delle sezioni sono oggi chiuse con l'idea e la speranza che la situazione possa rientrare uno per la circolazione del virus con una gestione più semplice del contagio e quindi ci si aspetta tutti che la primavera possa portare un giovamento ma in tempi più stretti dato che l'emergenza è oggi c'è una grande richiesta da parte dei presidi dei dirigenti in campo nazionale proprio per cercare di snellire specialmente per le fasce più giovani della popolazione tutta la questione della quarantena e dei tamponi conseguenti. Complicata la gestione della quarantena fra le mura domestiche complicata anche la gestione dei tamponi e i loro costi. Il rientro dalle vacanze di Natale con l'idea e anche l'intenzione di tenere le scuole aperte come giusto che sia e mi ero già espressa su questo aspetto porta con sé però tutta una gestione dei tracciamenti delle quarantene della questione tampone 0 tampone 5 che poi nella fattispecie diventa impossibile e molto complicata da parte delle famiglie per due questioni fondamentali gli appuntamenti che sono sempre difficili da trovare e anche il posto per fare un tampone e poi cosa non secondaria il costo stesso dei tamponi per le famiglie che quando una famiglia ha due figli che ripetutamente vanno in quarantena perché la classe è investita dalla quarantena con un caso positivo due casi positivi ci si deve attivare e questo è ripetuto nel tempo prendiamo atto in maniera drammatica di una situazione che per la scuola è molto complicata in queste settimane. E proprio agli studenti è sempre particolarmente catalizzato il messaggio del giorno della memoria che domani come ogni 27 gennaio commemorerà la data della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Proprio per il momento delicato della pandemia il comune di Pesaro celebrerà la giornata con una serie di collegamenti online fra istituzioni e istituti che sfoceranno in una diretta tv che potrete proprio seguire su Rossine TV a partire dalle 9.30 27 gennaio 1945 27 gennaio 2022 sono trascorsi 77 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz ed allo svelamento agli occhi del mondo degli orrori dello sterminio nazista. Da 21 anni quel 27 gennaio è stato anche istituito come giorno della memoria e da 21 anni Pesaro onora questa data enfatizzando la responsabilità della memoria. Un obbligo morale e culturale a non dimenticare e a tramandare il significato dell'olocausto alle nuove generazioni soprattutto quelle studentesche. Sarà così anche domani dove gli istituti superiori pesaresi si daranno appuntamento online per due ore nel segno del ricordo. Una memoria enfatizzata dagli elaborati degli stessi studenti. Ogni scuola infatti commemorerà le diverse vittime dello sterminio dagli ebrei agli omosessuali passando per rom testimoni di Geova e prigionieri politici. Scuole e autorità che saranno in collegamento attraverso una diretta tv che sarà trasmessa su Rossini TV e sul canale youtube del comune di Pesaro. Comune che parteciperà alla giornata con il sindaco Ricci, l'assessore alla crescita Camilla Murgia e il presidente del consiglio comunale Marco Perugini. Saranno presenti anche il prefetto Tommaso Ricciardi e la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni. Il 27 gennaio Pesaro aprirà al pubblico anche il suo luogo simbolo della cultura ebraica. La sinagoga di via delle scuole che alle 11 e alle 17 proporrà visite guidate su prenotazione alla scoperta delle origini del ghetto pesarese fino all'epoca rinascimentale. Ed ora passiamo ai dati del coronavirus sul nostro territorio. Dati davvero pesanti, un fardello pesante di decessi per contagi appunto da covid-19 nella nostra regione, ben 15 i lutti registrati oggi, un terzo dei quali nella provincia di Pesaro Urbino. Tutti i decessi di età compresa fra 71 e 99 anni presentavano un quadro clinico di patologie pregresse. Per quanto riguarda i ricoveri se ne registrano tre più di ieri, con 357 pazienti complessivi, di cui 57 in terapia intensiva. Sono invece 6196 nuovi casi di contagio da covid in regione, di cui 1437 nella provincia di Pesaro. Ed ora cambiamo completamente argomento, ci occupiamo del futuro incerto degli operatori balneari che secondo la direttiva Bolkenstein vedrebbero la fine della concessione demaniale nel 2023, con la messa a gara delle spiagge nel 2024. Una direttiva contro la quale si stanno battendo i 250 imprenditori balneari nella nostra provincia che oggi hanno ricevuto attestati di sostegno dal presidente della CNA nazionale Dario Costantini in visita a Pesaro. La visita del nuovo presidente nazionale Dario Costantini, il nuovo presidente nazionale di CNA, è un'occasione importante per fare il punto della situazione su alcuni temi chiavi per le imprese della nostra provincia, della nostra regione. Primo fra tutti la grande polemica, la grande diatriba che c'è sulla legge Bolkenstein, sulla direttiva Bolkenstein, che è una direttiva europea che impone la gara per far sì che ci sia concorrenza anche a livello di concessioni e nella fattispecie soprattutto di concessioni e facciamo riferimento alle spiagge, ai bagnini, ma non solo, tanti temi affrontati fra cui il caro bollette, il caro energia, l'inflazione, insomma un'occasione davvero per affrontare un insieme di argomenti molto importanti per le nostre imprese. Quello che mi auguro io è un futuro di buon senso dove le donne e gli uomini che negli anni hanno permesso anche il vostro territorio di essere così accogliente per noi turisti, andranno avanti ad investire, se ne ne daremo l'opportunità, per rendere ancora più bello il territorio, per rendere ancora più sicuro il territorio e quindi per rendere ancora più conosciuta nel mondo la vostra città. Mi auguro che la politica ci dia una mano, non farci del male, perché sarebbe veramente farci del male, creare un futuro di una gestione in franchising delle spiagge con stabilimenti tutti uguali. Ecco io vengo dall'entroterra, vengo dalla pianura e so bene il valore aggiunto per i pochi giorni di ferie ormai che una famiglia si riesce a permettere trovare queste donne e questi uomini che ti accolgono e che ti fanno passare finalmente quella settimana, quei 15 giorni di serenità, perché non dimentichiamo che queste sono famiglie, sono famiglie che hanno investito in questi luoghi, sono famiglie che contano su questi luoghi per vivere e spesso per vivere tutto l'anno e quindi quando sei in questa condizione qua cerchi di fare il meglio. Io credo ci sia stata una grande evoluzione in questi anni, sia davanti agli occhi di tutti, nell'accoglienza per esempio dei bambini, nell'accoglienza più in generale delle famiglie, con servizi di ristorazione che prima non c'erano e adesso ci sono, un settore che ha investito tanto, un settore che ha investito con buon senso, che è un genialità, come noi italiani siamo abituati a fare e quindi io mi auguro che il nostro paese abbia il buon senso di aiutare queste donne e questi uomini e permettere loro di fare ancora meglio per il bene del nostro paese. Con il Presidente della CNA Marche siamo qui presso la sede di Pesaro per parlare di questa direttiva Bolkestein che così da vicino interessa le nostre imprese. Oltre 900 sono gli stabilimenti banleari delle Marche, 250 quelli nella provincia di Pesaro che sono a dover affrontare un futuro davvero molto difficile e soprattutto molto incerto. Un futuro difficile, un futuro sicuramente incerto, però diciamo che con il Consiglio di Stato è ben o male riportato la sentenza di novembre e quindi adesso dal 13 gennaio si parla appunto di quelle concessioni che sono state ben o male messe a disposizione prima del 2009. Questo è un traguardo importante, un traguardo che dà un certo tipo di sicurezza a chi ben o male ha preso licenze prima del 2009 ma noi dobbiamo dare le certezze a tutti. Questo è quello che l'Associazione vuole. Cercheremo di portare queste istanze appunto sui tavoli nazionali, sui tavoli che contano perché tanto le soluzioni sono o all'interno del nostro governo, all'interno del Parlamento oppure in Europa diciamo. L'imprenditoria prima di tutto ha bisogno di poter guardare avanti, di poter guardare al futuro con una certa stabilità perché altrimenti non ci saranno mai gli investimenti e in questo momento il problema della Bolkerstein, di quello che è stato anche il ricepimento in Italia e poi le varie sentenze del Consiglio di Stato ancora non danno queste certezze che sono invece fondamentali per i nostri imprenditori. Certo, peraltro in un momento così difficile per tanti motivi, siamo in piena fase pandemica ancora, non solo, il caro delle bollette, tutte le spese a carico delle nostre aziende effettivamente fanno sì che questo sia un momento davvero molto duro e quindi CNA è sicuramente ben pronta ad aiutare le imprese che vi aderiscono. Hai detto delle cose giustissime, siamo a mio avviso in un paradosso economico, ci sarebbero i denari necessari e tutte le situazioni per poter prevedere una crescita stabile nei prossimi anni, purtroppo il fatto che ancora siamo in mezzo alla pandemia, il fatto che prima era un problema tutto italiano che poi è diventato mondiale, la scarsezza di materie prime e quando ci sono la speculazione enorme sulle materie prime, quindi dei costi esorbitanti, io ci metterei dentro anche l'inflazione e la tavica mancanza di infrastrutture nella nostra provincia, sono tutte situazioni che questa crescita ce la rallentano, non solo ce la rallentano, rischiano di bloccarla perché effettivamente siamo in un momento storico in cui i nostri imprenditori hanno dimostrato davvero di fare la differenza. I dati dell'export rispetto all'anno precedente sono straordinari soprattutto tra i nati nel nostra provincia da una manifattura guidata dalla meccanica, dal legno e dalla nautica che davvero fa la differenza e fa lavorare tutto l'indotto di contoterzismo. Purtroppo ci stiamo facendo del male da soli e abbiamo bisogno di sciogliere questi nodi fondamentali per poter permettere agli imprenditori di avere certezze nei prossimi anni. No alla violenza di genere nei pubblici esercizi, è questo il messaggio che emerge da Sicurezza Vera, il progetto ideato da Fipe Confcommercio in collaborazione con la Polizia di Stato. Si tratta di una serie di interventi sulle attività del territorio per promuovere e sensibilizzare sulle discriminazioni di genere e tutelare le vittime di tale violenza. E allora vediamo le interviste realizzate oggi nella sede della Confcommercio Pesaro Urbino da Edoardo Orazzi. È un protocollo di sicurezza che il gruppo imprenditrici nazionale ha voluto per garantire e dare supporto alle donne in questo momento anche molto più difficile e straordinario che è il Covid. Vera è questa donna che rappresenta ognuno, qualsiasi donna del mondo che si trova in difficoltà e quindi è trovare supporto, strumenti che possano aiutare le donne che subiscono violenza sia nei luoghi di lavoro che quelle domestiche. Uno dei principali punti del progetto è quello di educare e sensibilizzare sia già dalle scuole e le persone che le cose si possono ottenere anche con gentilezza e approvazione, non con violenza. Se riusciamo attraverso questo protocollo su istruzione della Polizia di Stato a distruire, ad informare, a sensibilizzare titolari e operatori dei pubblici esercizi, sicuramente riusciamo a fare un lavoro di sintesi e di collaborazione in modo tale che qualsiasi evidenza, perché le forme di violenza di genere non sono solamente quelle fisiche, ma ce ne sono molte invisibili come appunto quelle psicologiche, lavorare tutti insieme per poter in qualche modo evidenziare anomalie e quindi magari arrivare prima che sia troppo tardi. Quali interventi pratici verranno fatti appunto? Allora, questa qui è una fase prodromica, quindi di presentazione del progetto, oggi è la sedicesima tappa in Italia. Arrivati alla ventesima città partirà la parte diciamo concreta, fornendo una sorta di cassetta degli attrezzi con dei materiali formativi e informativi, sia a livello digitale, che grazie al digitale riusciamo a uniformare la formazione su tutte le varie città. Nel frattempo la parte di presentazione continuerà, perché non ci fermiamo a 20 città, siamo ambiziosi e vogliamo attivare tutto il territorio e sensibilizzarlo, e poi ci saranno degli incontri fisici dove le forze di polizia entreranno nei pubblici esercizi per spiegare, analizzare e in più i pubblici esercizi che verranno formati e che saranno dotati diciamo della cassetta di attrezzi avranno una sorta di stickers identificativo sulle vetrine, quindi su quello che è il fronte strada, a disposizione di anche persone che magari sono in strada leggendo e sapendo che quel posto è un posto sensibile, sa come gestire eventualmente la cosa ad entrare perché un'accoglienza sicuramente la danno e la danno anche formata. Passi avanti per la riapertura della strada della Gola del Furlo, chiusa da quasi un anno. Questa mattina si è svolto un incontro tecnico tra Regione Marche ed Enel Green Power. Per la definizione del protocollo d'intesa, in merito agli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante l'ex statale Flaminia nel territorio di Fermignano. Secondo l'assessore regionale Stefano Aguzzi, sono state affrontate tematiche decisive per arrivare ad un'intesa che sblocchi a breve il via ai lavori per la rimozione del masso pericolante e la riapertura della strada. Lavori che dovrebbero partire a fine febbraio per riaprire la strada entro quattro mesi. Ed ora parliamo di un'altra strada incompiuta da molto più tempo, ovvero la Fano Grosseto, per la quale è stato convocato oggi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture. Nell'occasione è stato messo ai voti il progetto per il tratto fra Mercatello sul Metauro e Santo Stefano di Gaifa. Il presidente della provincia Giuseppe Paolini ha riferito come provincia, regione e i comuni di Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo Invado, Urbania, Fermignano e Urbino si siano astenuti dal voto su un progetto che al momento precluderebbe la realizzazione delle quattro corsie auspicate dai territori in questione. Torniamo su Pesaro, dove i carabinieri hanno arrestato oggi per furto aggravato un 24enne responsabile di aver rubato una bicicletta dalla centralissima piazzale Matteotti, vittima del furto un uomo che si trovava all'interno di un negozio nelle vicinanze. Providenziale la segnalazione di un cittadino romeno che ha visto l'accaduto denunciandolo all'arma. L'immagine invece che vi mostriamo ora arriva da Fano, dove una macchina senza conducente ha invaso un marciapiede finendo contro un'abitazione in corso 12 settembre. L'auto, appartenente ad un trentenne fanese, era stata parcheggiata senza freno a mano nella pendente via San Paterniano. Il veicolo si è così sganciato dal suo posteggio attraversando la statale e finendo la sua corsa contro una casa. Per fortuna senza danni rilevanti e senza coinvolgere persone. Altre immagini invece sono quelle che arrivano dalle vostre segnalazioni, messaggi e foto che ci mandate al 370-366-7210. In questo caso parliamo di Roberto, delle foto che ci ha alcune immagini di poco decorosi imbrattamenti di muri nel sottopassaggio di Viale della Repubblica e nel palazzo del centro per l'impiego di Via della Robbia, dove come potete vedere sono stati registrati anche episodi di vandalismo al vicino campo sportivo da calcetto. Grazie Roberto per le foto che ci ha inviato e grazie a tutti i cittadini che diventano i nostri reporter sul territorio e ci inviano immagini e foto delle cose che sono da sistemare, le cose che non vanno nel nostro territorio. Adesso concludiamo il nostro telegiornale parlando di Alma Network B2B, la nuova piattaforma digitale realizzata di concerto fra Regione Marche e Camera di Commercio per lo sviluppo del business estero delle imprese. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio di Daniele Sacchi. Ci troviamo alla Trust Multiservizi di Pesero di Via delle Carso, palazzo dove questa mattina è stato presentato Alma Network B2B. Si tratta di un nuovo strumento, una piattaforma digitale completamente dedicata al business all'estero delle imprese marchigiane, alla loro internazionalizzazione in mercati emergenti come India, Emirati Arabi o Vietnam, mercati che si possono intercettare attraverso questi nuovi strumenti digitali, un nuovo prodotto completamente gratuito che è stato ideato dall'avvocato Matteo Gori, esperto di diritto commerciale internazionale. Questo portale è assolutamente innovativo nella misura in cui si basa su due strumenti che in questo periodo pandemico sono risultati vincenti, in particolare la digitalizzazione e quindi tutti i servizi verranno forniti esclusivamente online e il network inteso come rete di collaborazioni per permettere appunto lo sviluppo di questo progetto internazionale. Il portale è assolutamente e sarà assolutamente gratuito per tutte le aziende marchigiane che potranno entrare in contatto diretto con nuovi partner commerciali, trovare un punto d'incontro in interessi ed aspettative al fine poi di organizzare dei veri e propri B2B virtuali, quindi matching virtuali tramite delle business room, dove potranno scambiarsi informazioni e documentazione al fine di intraprendere nuove relazioni commerciali. Ad affiancare l'avvocato Gori nella proposta di questo nuovo strumento, la Camera di Commercio con questo progetto caldeggiato dal past president Alberto Drudi, strumento che sarà effettivamente online dal 2 di febbraio. Questo strumento è uno strumento unico nelle marche, non ce ne sono altri ed è uno strumento che è soprattutto al servizio delle imprese, potrebbe essere anche in collaborazione con le Camere di Commercio, con le associazioni di categoria, con le singole imprese, uno strumento che deve essere visto non tanto in competizione ma in collaborazione con questi soggetti. Io lo definirei una fiera online per le nostre imprese, dove le imprese straniere possono entrare nel sito e visitare le nostre imprese ed eventualmente nel momento in cui incontrano imprese di interesse possono iniziare il contatto e quindi il business. È un fatto importante, soprattutto in questo momento dove il Covid non ti dà la possibilità di viaggiare, perché se prima andavamo con gruppi di imprese all'estero e incontravamo decine e decine di imprenditori all'estero, oggi questo non è più possibile perché il Covid ti impedisce di fare questo. In più le imprese come sappiamo sono uomini e quindi gli uomini non hanno una gran voglia di volare in questo momento, con tutte le difficoltà, dei problemi, le restrizioni che ci sono nei vari paesi con il rischio di fare quarantene in alcuni alberghi all'estero. Questo progetto invece che è nato con la collaborazione e il supporto della Regione Marche rappresenta questo grande servizio importante, innovativo e funzionale per le nostre imprese. Innovazione digitale con vocazione internazionale delle imprese, filosofie che si sposano alle idee ad esempio dell'Università di Urbino e della Regione Marche. Questi progetti sono importanti soprattutto per il sistema delle imprese, sempre più le imprese che vogliono anche internazionalizzarsi, hanno bisogno di servizi avanzati. Da questo punto di vista un rapporto con le università e centri di ricerca è fondamentale. Noi abbiamo sostenuto dall'inizio questo progetto e siamo contenti che sia stato finanziato. E' fondamentale in questo momento guardare al digital export come momento di salvezza rispetto alla difficoltà di partecipare alle fiere, di partecipare ad incontri fisici. La digitalizzazione dell'incrocio, del matching può essere la strada con cui le nostre imprese continuano a crescere sui mercati. La Regione Marche ha deciso da qualche mese di investire anche sulle piattaforme digitali e anche su supporti informatici e tecnologici che mettono in contatto domande e offerta e questa è una di quelle iniziative che crediamo possa essere utile in tempo di pandemia per continuare a fare incontri, per continuare a fare promozione dei prodotti ma soprattutto per far incontrare domande e offerta. Riteniamo che è la vera opportunità che noi possiamo mettere in campo e come stiamo facendo con quegli accordi sistemici che abbiamo fatto con Sace, con Simest, con ICE, con la Camera di Commercio, anche questo, con questo supporto, sarà molto utile a far crescere i nostri imprenditori. E siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma intanto andiamo a raccontarvi quella che è la prima serata su Rossini TV e quello che vedrete anche i prossimi giorni. Partiamo quindi con la prima serata, questa sera una nuova puntata di Qua la Zampa, il nostro format in collaborazione con Comis dedicato ai nostri amici a quattro zampe. L'appuntamento è alle 21.20. E poi vi ricordiamo che domani in occasione della giornata della memoria a partire dalle 9.30 se vi collegate su Rossini TV vedrete le celebrazioni che ha messo in campo il comune di Pesaro. E domani giovedì torna una nuova puntata di Insieme a Canestro, vi ricordo saremo in diretta alle 21.20 e potrete partecipare attivamente mandandoci messaggi su WhatsApp oppure sulla nostra diretta Facebook. Avrete la possibilità di vincere tanti biglietti ma anche cadeau messi in palio dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Gli ospiti di domani sono Tyler Larson, playmaker della VL e Luigi Gresta, allenatore. E vi ricordiamo che sabato torna una nuova puntata di We Pesaro TV. Alle 13.30 potrete vedere questo approfondimento in cui protagonista sarà proprio Francesca Frenquellucci, l'assessore all'innovazione del comune di Pesaro. Andando ancora avanti, domenica appuntamento con la diretta della Santa Messa alle 11.15 se vi collegate su Rossini TV, canale 633 oppure sulla nostra pagina Facebook potrete vedere la diretta grazie alla collaborazione di Giorgio Ricci, la diretta che avverrà dalla parrocchia Santa Maria Assunta di Montecchio. Insomma sono davvero tante le cose per voi su Rossini TV quindi restate collegati al nostro canale. Vi consiglio anche di consultare il nostro sito internet rossinitv.it o i nostri social per rivedere i nostri servizi. Buona serata.